Con l'approvazione della Camera dei Deputati e la firma del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, la discussa manovra finanziaria è diventata legge. Si è concluso dunque l'iter del decreto, che prevede che entro il 2013 dovrà essere raggiunto l'obiettivo di pareggio del bilancio, contandosi 53,3 miliardi di euro previsti nel documento di programmazione economica. L'approvazione della manovra, però, non è servita a placare le polemiche, anche nella nostra regione, legate soprattutto alla soppressione dei piccoli comuni. A scendere di nuovo in campo, questa mattina, il PD regionale, rappresentato dal capogruppo in consiglio regionale Camillo D'Alessandro. Un'operazione vergognosa, hanno accomunato i piccoli consigli comunali e i costi della politica. I costi della politica sono tutti intatti a Roma, stanno nei ministeri, stanno nel numero dei parlamentari che non si riducono, stanno nello stipendio dei parlamentari che non si riducono, stanno lì, tutti a Roma, ma per far passare l'idea che si tagliavano i costi della politica hanno chiuso di fatto dei comuni, cioè li fanno rimanere in vita fittiziamente un sindaco e sei consiglieri comunali senza giunta, ma che obbligatoriamente devono delegare le funzioni ad un'unione dei comuni e quindi non esercitano alcun potere decisionale per la propria comunità. Il tema verrà anche affrontato a breve nel corso di un consiglio regionale straordinario, come spiegato ancora da D'Alessandro. Penso che il consiglio regionale straordinario si terrà il 27 e spero che sia all'unanimità il voto della contrarietà in modo tale che si possa aprire un dibattito vero su come va a organizzare il territorio, perché la cosa allucinante di questa norma è che intanto ti chiudi, poi delega alle regioni che se eventualmente i comuni non si mettono insieme di farlo tu, cioè la sommatore di due centralismi, il centralismo statale e il centralismo regionale. Diremo addio dunque ai piccoli comuni? Forse no, c'è ancora una speranza, come ha concluso il capogruppo del PD. Ogni fine anno c'è un decreto che il governo fa rispetto a leggi approvate che hanno delle difficoltà di applicazione, come credo possa essere questa, il famoso decreto mille proroghe, dove si inserisce lì e si prorogano le applicazioni delle norme. Noi vorremmo che la prima battaglia sia questa.